6. 9. 9. 11. 11. 11. 12. o no non lo so e tutti i diritti e io ho un'altra per la terra un po' o per la guerra mondiale in Italia in Italia in Italia non è una vera ma non è una vera ma non è una vera Sì, tanto è vero che appena incontra l'arito è capace di calmarci, quindi ancora è venuto Un po' è giusto, un po' è giusto 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 ma se l'hanno fatto delle lezze, i da le lavori che vanno qua le bova volo lavorare il zio vieni se toccate il zio io non metto il mio dico che era l'azio mi chiedi, mamma mia se ne sanno avete già consigliato il più forte adesso quindi vinte anni, mi avessi fermato sulle torriate del giornato, ma non ho visto l'izio grazie, fuori lì non ho la vita, non ho la vita, non ho la vita, non ho mai, non ho mai ancora un zio però vedete purtroppo come piace ne lascio completamente giusto? non so che spazio 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 vedo che è buono oddio ma poi vedete non so se mi so cosa stai quindi su questo è tutto tappato che deve rendere non so se yogurarlo un po' di questi suoi perchè mi seguivo le io lo faccio uno e uno e uno dei cacchi guardate che tolva l'uomo si è piaciuto si è piaciuto si è piaciuto si mette i dati si mette i dati ti vuoi si mette i dati se vuoi non va non va non va non va la tua lei non va non va è iniziatamente io avevo tutti i piccoli e ci sono un mese non parlavo e non ci sono le mangiate e non ci sono le mangiate. Ti potete stare la retta? c'è la genetica c'è la genetica non lo so ma io quello se lo muovino e si muovino poter armi e dimmi che passerò oggi si, poter armi e dimmi che passerò oggi se lo abbiano vuoi io voglio essere ha fatto bene a fare invece nera, non vanno meglio e poi vedo come scappano fai niente a prendere la mano per l'altra poi viste di stramare se mi dicevo di non si vede di mano non si vede di mano non si vede di mano giusto? no ma non prendere il telefono e quindi ti ho messo un po' in difficoltà giusto? vabbè ciao 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 Sono famiglia ingassato in giro, ma veramente ero famiglia ingassato. Primo motore, ora ho un treno, ho messo un treno a caricare, si può mettere un'ora più. Io sono allontanato, sono andato a un'altra parte che è l'accia del palentino. Arrivato qua, si deve arrivare. Sono allontanato a tutti i treni, siamo a segnare un'ora in Italia. Tanti gli altri ragazzi erano pure lì ad aspettare il palentino. Non mi ce l'ho? Sono tutti i treni di giro. Tu dici, l'uomo, ma noi non ti stai a mettere. Già che cazzo ciasse? Ma che m***a te rusco? Mi... Mi ucciso in giro? Mi ucciso in giro! Che l'uomo. Buoh! Che cosa sta a meno guida, mancare! Io non puoi capire la mia nuova, perché la mia famiglia non muo. E dai! Tu, va! Tu qui! Tu facciano... Va al tuo guido, va al tuo gusto! No! Ma se ti agghi, vai al giovine! Ma se lo vedete mai niente.. Vite! Grazie a tutti